We move the world, we are the light, è il motto di Voci nei Chiostri 2022, perché ogni coro posso muovere il mondo, perché ogni coro posso illuminare ogni angolo buio di questi momenti. Partecipare è molto facile, ci sono tutti gli elementi nel bando che trovate a Link, dal 11 giugno al 25 settembre, se organizzate un concerto, inseritelo nella rassegna Voci nei Chiostri, AERCO aiuterà così come è scritto nel bando, lo ripeto perché è molto importante, un bando in cui troverete anche un'altra cosa deliziosa che vi chiediamo, un audio, un video o anche un vostro testo breve che ci racconti qual è la vostra idea di pace, in generale, non necessariamente legati a questo momento storico, ma in generale. lo metteremo poi in una trasmissione, in un podcast, in questa neonata radio podcast di AERCO e ci sarà una puntata speciale proprio solo su Voci nei Chiostri. Attendiamo tutti i vostri contributi, mi raccomando, scaricate il bando! Grazie! Grazie! Grazie!